Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi iniziamo un nuovo custom level di Tomb Raider, si chiama Tomb Raider 2D Adventure. Come dice il titolo stesso, è un livello molto particolare perché si sviluppa su una grafica diciamo 2D, quindi è come una specie di platform, è una cosa un po' diversa dai soliti livelli di Tomb Raider. Quindi direi di leggere la trama e poi iniziamo. Allora, Lara è entrata in una strana dimensione che le dà una visione molto particolare e gli eventi che si svolgeranno in questo luogo avranno un impatto anche sul nostro mondo. Così Lara parte alla ricerca della Stone of Element, la pietra degli elementi. Esplora ogni parte del mondo dove diversi elementi come il fuoco, l'acqua, l'elettricità, la vegetazione, il ghiaccio e la roccia sono presenti. Lara cercherà inoltre di indebolire i clan rivali che stanno cercando di appropriarsi del potere della pietra per migliorare appunto il proprio potere. Infine Lara potrà finalmente dimostrare la sua purezza e la neutralità in una battaglia finale che porrà fine al conflitto. Ok, allora io direi di iniziare. Allora, eccoci qua. Come vedete è come un platform, è molto particolare e forse anche un po' difficile con i tasti. Vediamo. Ok, mi sono incastrata, perfetto. Salta non troppo. Ok, abbiamo saltato troppo forse. Aspettate che non mi ricordo più i tasti. Ok, perfetto. Ok. Allora, qui c'è un medikit e direi di prenderlo subito. Perché potrebbe esserci utile. Quindi prendilo. Ok. Adesso vai qua e salta. Perfetto. Oh, qua c'è un altro salto da fare, quindi così. Wow, anche qua. Quindi direi di fare un bel salto. Mi sa che non ci arriva, infatti. Ho saltato troppo presto. Ok. Torniamo su. Sì, perfetto. Girati e adesso rifai il salto. Ok, adesso sì che è perfetto. Allora, qua c'è checkpoint. I checkpoint non è che salva in automatico. Praticamente vi dicono dove vi conviene salvare. Quindi salviamo subito. Perfetto. Allora, là c'è un medikit. Ce la faccio con un salto così? Sì. Wow! Perfetto. Ecco perché hanno detto di salvare. Ok. Ricarichiamo la partita. Allora, con un salto ce la faccio. Allora, mettiamoci qua così. Perfetto. Oh, ok. Ce l'abbiamo fatta. Adesso no. Devi raccogliere... Ah, c'è la fiaccola che dà fastidio. Ce la fai? Sì, ce la fa. Perfetto. Wow, salta! Ma no! No, veramente! No! Ok. Allora, rimettiamoci qua. Ah, ok. Qua non scatta la trappola. Scatta quando sono qui sopra. Ok, perfetto. Allora, prenditi il medikit. E io adesso salvo. Allora, salva. Ma suppongo di dover saltare tipo all'ultimo momento. Esatto. Wow, salve! Ok, salviamo. No, cosa? Metti via le pistole! Devi sparargli! Perfetto. Mi ha lasciato qualcosa? Sembrerebbe di sì. No, mi ha lasciato... Ah no, mi sembrava che mi avesse lasciato qualcosa. No, vabbè, niente. No, aspetta. Ok. Allora, andiamo qua. Qui c'è qualcosa. Un altro medikit. Sì. Sempre utili. Perfetto. Vediamo che non ci sia... No, non c'è nessun altro. Allora, adesso prenditi anche questi. e proseguiamo. E proseguiamo. Allora, qua mettono... No, no, ho sbagliato. Mettono un altro checkpoint. Quindi, sali... E salva. Perfetto. Andiamo. Allora, vediamo un po'. Adesso sali qua. Wow! 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 Scendi! Ok. Dov'è andata? Dov'è? Ah, ok. Eccola. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Adesso sali qua. Allora, là sotto c'è qualcosa. Perfetto. Allora, girati e prendi questa cosa. Ah, è un medico, d'accordo. Ok. Arrampicati qua. Allora, qua c'è... No, togli le pistole e vai. Ah, ci sono dei proiettili per fucile. Ok. Ah, è un segreto! Uh, d'accordo. Non le pistole. Ok. Dunque. Adesso però dove dobbiamo andare. Vediamo. Ah, là sopra. Ok, perfetto. Allora, salva un attimo. No! Ma cosa? Ok. Adesso. Sali qua. Poi. Sali qua. E poi... No. Sali qua. Ok, si è aggrappata. Perfetto. E adesso qua. Oh, dunque. Qua mettono un checkpoint. Quindi salviamo. Ah, ok. Perché ci sono tipo... Uh, wow. Uh, no! Ah, ok. Perfetto. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. E adesso dobbiamo sal... No! No! Ma perché? Perché? È caduta così. Allora, risalta. Perfetto. Ce la fai? Non ce la fa. Era meglio il salto di prima. Ricarica. Ok. Adesso con calma scendi qua. E adesso... Aggrappati qua. Ok. Perfetto. Adesso vai qua. Ok. Allora, però, c'è qualcosa. Quindi. Girati un attimo. Allora, siccome non vedo nulla... Io salvo. Vediamo se così può bastare. Sì, basta. Ok, c'è un medikit. Prendiamolo. Perfetto. Alta. Ah, c'è una discesa. Non l'avevo vista. Ok. Ok. Risalviamo qua. Uh, salve. Allora, vediamo un po'. Ok. Wow, ho... Oh, d'accordo. Perché mi ha fatto andare qua? Però, aspettate. C'è qualcosa qui? No. Allora. Eh, però io come faccio adesso ad andare là? Ah, aspetta. Aspetta, aspetta. Ma se tipo io faccio una cosa di questo tipo, ci si può arrampicare? Sì, ok. Perfetto. Allora, andiamo verso di qua. Cerchiamo di non cadere, perché sennò ci bruciamo. Ok, c'è anche un medic kit. Perfetto. Adesso, non le pistole. Raccoglie il medic kit. Non lo raccoglie. Ah, perché era un po' distante. Ok. Risalva. Adesso vai indietro. E salta. Perfetto. Wow. Ok. Allora. Là vedo già una leva. E probabilmente mi servirà per aprire questa porta. Quindi, vediamo se riusciamo a salire. Forse... Ok. Ok, perfetto. Allora. Dove... Ok. Ok, sì. La porta si è aperta, però vedo qualcosa dall'altra parte. Quindi, io andrei a prenderlo. Ok. Un medic kit grande. Perfetto. Allora. Qua mi danno il checkpoint, quindi meglio salvare. Ok. Adesso, vediamo un po'... No. Ok, mi ero incastrata. Oh, dunque. Qua c'è un'altra leva. Ok. Allora, lì c'è una statua gigante. Ok. Ci sono altri due statui giganti. D'accordo. Allora, proviamo a salire. No, così no, però. No. Passetto indietro. Quasi. Quasi. Ok, perfetto. Allora, mi sa che devo spostarlo, sì. Ok. Ho sentito una porta aprirsi. Allora, forse sono delle specie di pulsanti queste cose qua. Quindi noi dobbiamo mettere le statue come per primare il pulsante. Credo. Allora, proviamo di qua. Ce la fai? Vediamo. Con un salto? Sì, perfetto. Wow, ok. Adesso, questo... Non posso spostarlo all'indietro. Ok. Quindi... Oh, forse devo spostarlo in avanti. E però, l'altra statua come facciamo? Allora, fai una cosa. Sali qua. Sali così. Ok, perfetto. Allora, intanto lì ci sono due piattaforme. Quindi vediamo se magari c'è qualcosa. Oh, dunque. Di qua. Ok, no. Non c'è nulla. Perfetto. Allora, possiamo scendere magari piano. Ok, scendi piano. No, maledizione. Vabbè, mi sono fatta un po' male. Allora, vediamo se si può spostare questa in là. Sembrerebbe di sì. Ok, sì, ok. Ok. Perfetto. E adesso spostiamo questa di qua. Ok. Ok, scusate un attimo. Ok, eccomi. Allora. Dobbiamo salire di qua. Ok. Adesso suppongo di dover andare a sudestra. Sembra sì di vedere un pertugio. Quindi, salta. Ah, ok, ecco. Queste sono le tre porte che abbiamo aperto. Con le tre statue. Allora, qua c'è una discesa. Io salvo prima, però. Perfetto. Ok. Sembra... No! Cosa? No! Ma... Ok, l'ho persa. Dov'è? Dov'è? Ok, io sto sparando a casa, ma non la vedo. Dov'è? Ah, è qua! Maledizione! Ok, vai. No! Non incastrarti! No! Maledetto scorpione! Ok. Allora, riproviamo. Questa volta cerchiamo, però, di seguire la visuale. Cioè, non andiamo troppo oltre della visuale, sennò non vedo nulla. Allora, fermati. Ok, intanto uccidi. Perfetto. Adesso. Dovrebbe scendere. Io intanto sparo. Vediamo. Sta andando... Ok. Ok, l'ho persa. Maledizione l'ho persa. Ok, eccola. Ok. Io intanto continuo a sparare. Qua cosa c'è? C'è qualcosa. Ok, frecce, frecce. Benissimo. Vai, corri! 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 Ah, ma muoiono con le spine. Eh, vabbè. Eh, ma questo si apre? Oh, ok, perfetto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, salva. Raccogli questo... Medikid grande. E adesso sali qua. No. Ancora un po'. No, ancora. Ok, perfetto. Qui cosa c'è? Ah, lei bengala. Ok, perfetto. Salta qui. Allora, qua mi mettono un altro checkpoint. Quindi, salviamo. Perfetto. Allora, qua c'è qualcosa. Che cos'è? Uh, fucile! Ok, perché mi hanno dato il fucile adesso? Eh, sì, dai, lo equipaggiamo. Quanti? No, aspetta, aspetta. Quanti? No, ho sei proiettili. No, no. E allora, quasi quasi no. Rimettimi le pistole. Sì, ok, perfetto. Allora, proseguiamo se... Ok, perfetto. Wow. Non vedo nulla. Non vedo... Wow, cosa? No, ancora no. Vi prego, no. Aspetta, ancora no. Allora, andiamo avanti. No! Ma cosa? Cosa è successo? Ma no. Ma no, devo ancora prendere questo. Cosa è successo? Oddio. Allora. Proseguiamo di qua e adesso magari salviamo subito. Appena arriviamo... Ok, salva. Perfetto. Allora, se io salgo là, mi schiaccia una... Perfetto. Allora, forse c'è un'altra tattica. Devo salire là in cima. Ok, sì, ok, perfetto. Fin qua ci siamo arrivati. Adesso... No, non riesco ad uccidere il set da qua. Quindi devo per forza scendere. Quindi vai di qua. No, non mi spara. Perfetto. No! Ma no! Ma cosa? Ma perché? Allora... No, da qua. Ah, ok. No, non riesci a spararmi. Comunque io salvo. Adesso scendi piano. Ok, scendi piano. Aggrappati così. Maledizione mi ha preso. Adesso aggrappati e sali. Perfetto. Ok. Qua cosa c'è? Dei proiettili per fucile? Sì, fucile. E io salverei anche. Ok, adesso. Allora, di qua non si può andare. No, non si può. Quindi, torniamo indietro. Ah, forse devo fare il giro dall'altra parte. Ok, ho visto. Ho visto tutto. Quindi. Vai di qua. Perfetto. No, maledetto. Mi ha fatto cadere. Allora. Forse sarebbe meglio prenderci anche un medikit. Ok. Adesso vai. Si può saltare tipo... No, non si può. Perfetto. E allora, risalta qua. Ok. Adesso. E appunto lui ci prende. Però noi saltiamo. Perfetto. E corri. No, non incastrarti. Corri. Corri. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. E io salvo. Ok, perfetto. Allora, qua cosa c'è? C'è sempre un proiettile. Ok. Adesso andiamo di qua. E facciamo la stessa cosa. Quindi. Prima che quello lì ci uccida. Salta. Perfetto. No! Maledizione. Allora. Riprendiamoci questo. Ok. Forse sarebbe meglio anche usare un medikit. Allora, adesso. Proviamo da questa parte. Vediamo se riusciamo ad evitare la palla con i spuntoni. No! Perfetto! Oddio. Allora. Aspettate. Ho una mezza idea. Ho una mezza idea. Ah, dunque. Se io vado di qua. Dunque, piano. Piano. Ok. Adesso, se io tipo, vado qua. No. Piano. E torno indietro. Torno indietro subito! Ok. Sì. Però no. No, mi spara. Mi spara. Vabbè. Stiamo qua. Stiamo qua così. Ok. Io direi di salvare. Perfetto. proseguiamo. Adesso non dovrebbero esserci problemi. Veloce! Ok. Ok. Ah, ma tipo adesso... Allora, intanto salviamo. Ma adesso non è che tipo posso sparargli. Ok. Perfetto. Quindi vediamo di ucciderlo. Ok. Perfetto. E lui non mi prende. Ok. Sì, ma quanto ci vuole per ucciderlo? Sostentemi, eh. L'altra volta abbiamo beccato due sette. Che sono morto dopo un paio di cose. Questo qua non muore più. E allora? Ma cosa? Ok. Finalmente. Ok. Possiamo andarcene? Allora, salviamo. E andiamocene. Ok. Oddio, che cos'è questa cosa? Cosa? Ah no, forse ci vuole... Una chiave. Oddio, dove la trovo io, una chiave? Aspettate, non è che sette mi ha lasciato qualcosa morendo. Aspetta. Vediamo. Ah, ok, perfetto. Non l'avevo visto. Prendilo. Ok, adesso torniamo indietro. Eh, no, mi sa che lì non ci arrivo, quindi devo fare il giro. Ok. E poi qua. Adesso dovrebbe funzionare. Ok. Sì. Wow. Ah, ok. Credo che questo qua indichi che abbiamo finito il primo livello. Infatti sì. Ok, perfetto. Allora, ci fermiamo qua. Vediamo se... Beh, intanto è meglio salvare. Vediamo se riusciamo però a vedere le statistiche. Sì, ok. Come tempo. Ci abbiamo messo, vabbè, 17 minuti. Distanza 1189 metri. Abbiamo usato i 2,92. Abbiamo usato un medichi. Uno solo. Non mi sembrava di più. Vabbè. E abbiamo trovato due segreti su 12. Ok, d'accordo. Allora, come potete notare, questo custom level è diviso in diversi livelli. Questo era il primo. Direi di fare però il secondo nella prossima parte. Quindi lasciate un piaccio e un commento se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ho rotto le ranno. Maledizione. Ok. L'infortuna è che ho salvato. Allora. Ce la possiamo fare? Salta così. Wow, grandissima. Ok.